con l'ISE e con gli altri colleghi l'emendamento presentato. Onorevole Zoffoli, un minuto. Grazie Presidente. L'Europa è in movimento verso un nuovo modello di sviluppo, un'economia a basse emissioni di carbonio. Questa è la sfida, mentre oggi il settore dei trasporti dipende ancora per il 94% dal petrolio ed è responsabile di oltre il 25% delle emissioni di gas a effetto serra. L'obiettivo di questo regolamento è di avere delle auto in circolazione meno inquinanti e che consumano meno carburante a tutto vantaggio della salute e delle tasche dei cittadini europei oltre che dell'ambiente. Ma non basta fissare nuovi e ambiziosi target di riduzione delle emissioni delle auto. È importante assicurarci che le emissioni certificate sulla carta corrispondono a quelle reali e quindi sono d'accordo con l'articolo del regolamento che propone l'introduzione di una prova delle emissioni in condizioni reali di guida su strada per evitare nuovi scandali tipo il dieselgate. È indispensabile inoltre come proposto un'analisi delle emissioni sull'intero ciclo di vita dei veicoli. Non basta misurare gli inquinanti solo alla barmetta, allo scarico, negli anni di esercizio, ma considerare anche le fasi della produzione e dello smaldimento. Grazie Presidente. I obiettivi CO2 più severi e vincolanti sono veramente necessari. E la Commissione indica quella che è essere la strada verso la maggiore tutela dell'ambiente. Però... Grazie.